È solo un emendamento tecnico per andare a migliorare la legge, perché noi siamo legislatori e dovremmo utilizzare anche una corretta tecnica legislativa. Grazie. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 3.050 Colletti, parere contrario, Commissione e Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Ci siamo? Cassano, Nicchi, Cassano ancora deve sistemare, Agostini ha votato, Colonnese, Malpezzi, Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'articolo 4. Onorevole Ermini, pareri sugli emendamenti d'articolo 4. Grazie, signora Presidente. Invito a ritiro parere contrario per tutti gli emendamenti. Grazie. Onorevole Santelli. Conforme. Onorevole Colletti. 4.1, parere favorevole. 4.2, parere favorevole. 4.50, parere favorevole. 4.3, parere favorevole. Grazie. Il 4.01 ha anche immagino essendo a sua firma. Ok. Allora, emendamento 4.1, intende intervenire qualcuno? No. Ah, scusate, il Governo. Governo? Ok. Allora, 4.1 non chiede di intervenire. Lo metto in votazione. Parere contrario, Commissione, Governo? Governo?